Ciao ragazzi oggi siamo in una modella LSDFR con l'Oris E ragazzi oggi abbiamo la divisa della polizia con la giacca C'è un lato dei carabinieri con la nostra divisa però ovviamente dei carabinieri Faremo anche un video con questa divisa però dei carabinieri Però oggi siamo sempre con questa divisa però della polizia E niente siamo con la Seat Leone E come al solito andiamo a battugliare le zone questo e fare chiamate Ok Andiamo in questo punto Guarda Ma voi che quando ci muovete le ore e non ce n'è Non c'è più scuola Non c'è più scuola Non c'è più scuola Ma perché ci muoio? A Gingia Terra Gingia Terra non è riuscato e gli altri? gli altri stanno andando sicuramente vai 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 regalbotica ci vuole picchiare vado regalbotica ci vuole picchiare scendiamole oh 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 c'è la pistola è rotta mi sa aspetta aspetta non spararle non spararle eh no è un bodyguard aspetta non toccare non possiamo sfoggerci ci ammazza ora diciamo che voglio regalbotica ho messo a posto la pistola non si tira più fuori vai ce l'ho fatta mi serve un'età un'età da me ma perché avrò il bodyguard? per me l'ho chiamata c'è il bodyguard che mi spara c'è il bodyguard che mi ha fatto un po' di uno 4 è nero è bellissima vita un piccino controlliamo non aveva niente si cosa è un fucile un fucile un fucile che di che fucile si tratta? perché ci si tratta? come è accettato dov'è? è già chiamata l'ambulanza non lo so si sono fatto male cane doveva andare all'ospedale quali sono le altre armi che... qual'è la sua... qual'è la sua arma? era... aveva una pistola ah non è un fucile no no ci ha fatto malissimo ora dobbiamo andare all'ospedale raga facciamo un taglio quando arriviamo all'ospedale raga non possiamo procedere all'ospedale piove un casino via scampiamo con i macchini poi ci prendiamo un raffreddore con i macchini siamo al sicuro poi mi piace un piove madonna mia è proprio freddo raga siamo appena usciti dall'ospedale come avete visto c'era una chiamata siamo dovuti andare fino al deserto ma ve l'abbiamo saltata perchè alla fine ci siamo schiantati e siamo morti quindi ve l'abbiamo saltata tutta quindi ora vediamo se c'è qualche chiamata per noi non possiamo ricevere chiamate questo piccolo sospetto me l'ha appena segnalato e per quando quando ricordi quando non ci farei ricevere chiamate vuol dire che c'è un pallino rosso oh me lo marcha da solo dai documenti blaze ferdinali ferdinali ok e' posto sarà la tarda oppure c'è qualcosa addosso vai 08 m c e u 14 9 avrà qualcosa addosso provare a vedere se no niente ha qualcosa addosso ha qualcosa addosso perfetto perchè se no perchè c'è signora eh ha detto una parlaccia quando li abbiamo controllato scuola 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 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 6 6 6 7 7 7 7 7 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10 9 10 10 11 12 12 13 11 12 11 12 12 14 14 15 15 continua di farlo ora perché non avere per la ferca 易ici ok si è fermato aspetta aspetta eh, io se non troviamo niente moku qua le punti rosse non le voglio più chris holly holly vabbè trovato guarda, devo vedere aspetta cos'hai fatto? guarda il primo oggi siamo 10 targa 47 0 e t 2 2 8 poi rubata no non è rubata 47 0 e t 2 22 8 senti qua lo risulta è rubata cioè non lo risulta accanto con la carga ed è rubata cioè lui se ne deve andare ma non con la macchina continuiamo cos'è addosso intanto prima una multa perchè il veicolo non è suo oh ha un documento falso sta scappando fermo polizia oh oh signore mamma aia vai 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 no però 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 me lo fermo non lo voglio spavare non lo spavare non è che questo è ricercato tipo tu che lo sai se non hai ricercato? forse ricercato perchè non abbiamo chiamato noi colleghi io ne ho chiamato uno o due è arrivata tutta la stazione io ne ho chiamato pochi perchè non mi corre vicino grazie colleghi perchè ho detto se mi correva vicino l'avrò ammazzato fermo giù a terra ti do un secondo giù giù ci pensieri colleghi fai giù vai giù bravo giù a terra pensieri colleghi la prima volta che mi ha detto con te tutto aia non mi ha guardato ora ci vediamo via andiamo via le chiamate non sono disponibili riempie un'ora non ho avuto ma è alto le pt ne ho detto la media costa posto spero o ma guarda abbiamo il sportello signore se non è uno sportello si è pieno si sente male si sente male si sente in sé o si sentono sempre male noi facciamo signore ci scusi per la piccola teta deve spostare la sua auto l'auto jimmy rubin il io la parola il terreno noi non lo sappiamo di 45 hl l'era diretto l'unico noi diciamo che non lo so non non ricordi in questo tempo la macchina e roba il signore facci vedere cosa ha addosso si allora se non dobbiamo niente addosso è libero a te non lo faccio signore ne volerò una cinquina non ha nulla ok lei ne ha arresto perchè hai ricercato dalla polizia ma cos'è questo suono di l'ambulanza seguimi ok si vorrei vedere se quello là è rivivo perchè hanno imbottigliato l'ambulanza nel traffico ma vado là ambulanza ci sono bloccati non puoi stare nemmeno salire da dargli una mano eh non mi è che va molto si sta espandendo il sangue disse si sta espandendo il sangue eh quindi e vuol dire che forse è morto è morto è morto se è tutto intanto fate mandare un'autore centrale dai quello che c'è già portato l'auto 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 lasciamola qua per qualche secondo mentre aspettiamo poi ragazzi facciamo altre bui chiamate e spostiamo la nostra auto la nostra auto ancora questa la nostra vecchia auto beh certo risaliamo su questa che sennò scompare che c'è la roba facciamo la nostra ok quello l'ha è morto è morto se non è stacchito e rivive è un miracolo dopo si becca la volta è vivo è morto è morto hanno rubato l'ambulanza sempre in ogni video arrivano porca di quella vacca chiamane due tre tre ecco in realtà erano chiamate due dai hanno chiamato tre vai tanto l'ambulanza è lenta a parte dei video carabinieri che erano tre ecco e ora non si muove più ogni volta eh ogni volta che vedi davanti di frontale tanto si arriva ogni volta che le buchi la prima gomma scendi magari un ballast o un vago o su qualche scendi giù non buttiamolo giù di peso che pericolo perché lo portiamo giù vabbè senti un vago sempre vago se lo rubano giù questo tuo collega e poi deve essere uno di grado alto perché vago 2 noi siamo noi siamo uno di grado 3 è il massimo siamo sergenti il vago il vago se deve essere forte uno l'ambulanza mettiamola su tutti no vabbè non ci passano ci passerebbe però poi ci passa la gente quindi no non ci passa ci sono simili che un blocco come ci passa la gente con me ma ragazzi facciamo l'ultima chiamata one eternity later ok vai grande scout 2 abbiamo un uno con un veicolo e niente ma ci frega sempre in scendo per fargli posto di blocco ma un veicolo molto veloce devo dire l'hai visto? si chiama grande scout vuol dire che scappa da una gara con me si e vuol dire con un veicolo veloce niente chiamenene 3 c'è giù la palla l'interno 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 ah il trasporto il trasporto che c'è quella quella con il giugno l'obiettivo è un giugno aveva una bugattina spostiamo la bugattina che c'è guarda quello che c'è lo spostato davanti si devono aver fatto uno sparatorio scusi scusi no l'altro non è di nostra competenza costiamola è di competenza dei colleghi noi non abbiamo fatto nulla in questo incidente hanno rubato un'auto dalla polizia davanti ai nostri occhi è un collega beh ragazzi sarà questa l'ultima chiamata perchè sta chiamata qua non abbiamo fatto niente infatti l'auto non era di nostra competenza non dov'è iniziare a spostare ma vabbè mi sta detto è questo l'auto si i gang si sparano uuuu via via ci stanno i gang venga questa sarà l'ultima chiamata con i gang le gang con la gang con i gangster chiamala SWAT sono venendo a prendermi sono venendo a prendermi ma che pompa il pompa va schifo riportali sono davvero portato chiami i colleghi qualsiasi la sua aspetta non posso ora sto sparando se mi fai se mi fai pesci no dalla rampa dalla rampa non ci lasciamo noi siamo allenati per questo il sospetto è scappato no l'hanno ammazzato tutto è morto e in tutto questo non ci siamo presi neanche un proiettile aspetta vabbè niente ragazzi video di oggi è finito qua se vi è venuto tutto come al solito like iscrizione campanellina qua vi appariranno dei video e da lato a Andrea bye be like be like